25 aprile è festa della liberazione a Cagliari, ci sono anche i radicali italiani con tanto di bandiere, Laura di Napoli, perché essere presenti appunto al 25 aprile? Noi ovviamente siamo presenti perché la festa della liberazione è importantissima, è una festa che va festeggiata ogni anno, perché soprattutto in questo periodo storico, un periodo in cui stiamo rivivendo anche in parte ciò che è successo prima della liberazione, non lo stanno vivendo gli ebrei in questo caso, lo stanno vivendo altre persone, ma i nazionalismi che sono i nuovi fascismi stanno riproponendo uno schema che abbiamo già vissuto, quindi in questo momento è più che mai necessario rispondere con gli Stati Uniti d'Europa contro i nazionalismi che vogliono dividere invece che unire i popoli. Lei dice che si sta ritornando a certi tempi, non sono gli ebrei ma altre persone, cioè? Esseri umani che vengono allontanati o etichettati come qualcosa di inadatto alla società e relegati in lager lontani dalla vista delle persone. Senza andare troppo lontani c'è stata la dichiarazione dell'attuale Presidente del Consiglio regionale Michele Paes ha detto il 25 aprile, non so se ci andrò a ragione Salvini. No, in realtà Salvini questa volta ha sbagliato perché è molto importante fare in modo che non si ripetano degli errori che si sono già verificati in passato e che tutti quanti condanniamo Salvini compreso, per cui è stato un errore. Può sbagliare anche Salvini, diciamo.